La provincia di Imperia è stata promossa dalla Corte dei Conti che in una delibera ha evidenziato come lente, nonostante le forti difficoltà economiche, abbia realizzato con successo quelle azioni che si presentavano come indispensabili per ripristinare le condizioni generali di equilibrio finanziario, così come stanno operando con positivi riscontri finanziari anche le altre misure, sia sul versante delle entrate che della spesa. La Corte dei Conti ha anche preso atto del fatto che i maggiori risparmi di spesa sono stati ottenuti attraverso un'incisiva riduzione della dotazione organica di personale e riorganizzando le strutture dell'ente. Sempre la Corte dei Conti continuerà a vigilare sulle spese e sui conti dell'ente imperiese, almeno sino al 2022. I funzionari e il consigliere delegato alle finanze, Domenico Abbo, hanno accolto con soddisfazione la delibera e in particolare Abbo ha ricordato che per il 2017 si dovevano trovare 7 milioni di euro per non finire in rosso. 2 milioni sono arrivati dallo Stato, altri 2,5 milioni sono stati recuperati riducendo le spese correnti e ora si tratta di recuperare gli altri soldi necessari per chiudere la partita in pareggio. La speranza è che vengano erogati dalla Regione.